signori buonasera e benvenuti sul canale del master kai io sono il master kai e sarò il vostro ospite su questo canale quanto ero giovane e ingenuo all'epoca ma non è il caso di perderci adesso in sentimentalismi avremo l'intera decima stagione del canale per quello però adesso come vi avevo annunciato quei vecchi video avranno un overhaul perché mi sono accorto che oramai a distanza di nove anni non reggono più con il resto della qualità che il canale ha raggiunto e considerando il canale del master kai è famoso per la sua pessima qualità potete immaginare cosa voglia dire sicuramente tutti voi che state guardando questo video sapete già che cos'è un dungeon probabilmente ne avete anche masterato qualcuno o comunque ci avete partecipato come giocatore il dungeon dopo tutto è probabilmente uno degli elementi fondanti del gioco di ruolo dovrei dire del gioco di ruolo tradizionale ma in realtà vedremo più avanti nella serie che no la sua influenza si espande a tutti i tipi di gioco di ruolo di cose da dire sul dungeon infatti ce ne sono a bizzeffe bisognerebbe parlare di dove inserirlo all'interno di un'ambientazione di chi abita all'interno del dungeon di quando è meglio per voi inserirlo all'interno della vostra campagna ma prima di rispondere a queste domande ce n'è un'altra molto più importante cioè perché il dungeon dobbiamo cominciare facendo un importante distinguo come finalmente vi siete accorti io molto spesso qui sul canale parlo di strutture narrative e se non ve ne siete accorti molto male adesso mi fate un tiro salvezza sui riflessi questo perché nel gioco di ruolo esistono vari livelli uno è l'effettivo livello testuale cioè quello che avviene all'interno del gioco ma a livello meta e paratestuale esistono degli archetipi appunto le strutture narrative che governano il funzionamento delle storie le motivazioni per cui accadono determinate cose e il dungeon è un tipo di elemento che esiste contemporaneamente su più livelli per cui esiste un dungeon che è quello che i giocatori vanno a esplorare ma esiste anche un dungeon che è appunto una struttura narrativa questi due concetti hanno un ampio margine di sovrapposizione ma non sono esattamente la stessa cosa nella sua forma più diretta e banale il dungeon è una struttura labirintica sotterranea che i personaggi giocanti sono chiamati a esplorare per sconfiggere mostris innescare trappole portarsi a casa il tesoro ovviamente quello che ho citato è il classico esempio del dungeon fantasy che è probabilmente il tipo di dungeon più comune dato che quello è il tipo più comune di ambientazioni che esistono per il gioco di ruolo ma ne abbiamo già parlato nel video sul dungeon dressing lo lascio qua se dovete andarlo a recuperare comunque date per scontato che anche se io all'interno di questa serie per semplicemente convenzione e semplicità riferirò sempre i miei esempi appunto agli archetipi del fantasy quello che all'interno della vostra quest della vostra campagna sarà il dungeon potrebbe assumere qualunque forma sia coerente con l'ambientazione il vostro dungeon potrebbe avere un flavor molto più fantascientifico ed essere un laboratorio sotterraneo in cui vengono fatti esperimenti scientifici misteriosi o magari potrebbe essere composto dai corridoi e dalle paratie del relitto di un'astronave che flutto alla deriva nello spazio ed è infestato da creature aliene molto più semplicemente potrebbe essere la piantina e un edificio che i personaggi devono esplorare per trovare indizi sul misterioso delitto su cui stanno indagando oppure potrebbe essere la mappa di una città in cui un pazzo sadico ha deciso di mettere i padiglioni di una fiera diversi chilometri l'uno dall'altro per costringere la gente a marciare sotto una pioggia insessante per raggiungerli ogni riferimento è puramente casuale in poche parole qualunque sia la vostra campagna molto probabilmente al suo interno potrà prendere luogo molto comodamente un dungeon a questo punto però la domanda rimane se indipendentemente da che cosa state giocando il dungeon potrebbe comunque saltare fuori perché il dungeon è una struttura così diffusa in tutto il gioco di ruolo proprio perché a livello di progettazione della quest il dungeon non è tanto un luogo fisico ma una struttura narrativa che permette al master di organizzare al meglio gli elementi di una storia e quindi la linea narrativa della quest che deve organizzare facciamo un esempio concreto per rendere le cose più chiare il dungeon che i nostri avventurieri dovranno esplorare sarà come ho detto il banale labirinto sotterraneo fantasy avrà un suo ingresso da cui personaggi giocanti potranno accedere alla struttura che porterà una prima piazzola da cui partiranno due corridoi ognuno collegato a una stanza ognuna di queste stanze sarà poi a sua volta collegata a una stanza centrale da un altro corridoio uno dei quali porterà una stanza intermedia mentre l'altro conterrà una porta segreta che potrebbe portare a un'altra area del dungeon dalla stanza centrale partirà un ultimo corridoio che porterà l'ultima stanza del dungeon dove ci sarà il tesoro o qualunque altra cosa i personaggi sono venuti a cercare qui dentro e probabilmente anche il boss finale o l'incontro climatico di questa avventura per quanto sia ovviamente una struttura esistente all'interno del mondo di gioco il dungeon per via della sua natura isolata e separata dal resto dell'ambientazione con corridoi definiti è un punto d'accesso prestabilito permette al master non solo di prevedere fin dalla fase di progettazione della quest quali saranno tutti i possibili percorsi al suo interno ma anche gli dà la ragionevole probabilità di poter costruire le cose in modo da orientare le scelte dei giocatori verso alcuni specifici esiti desiderati una volta entrati i personaggi inevitabilmente arriveranno alla prima piazzetta da lì potranno scegliere se prendere il corridoio di destra o di sinistra ma in entrambi i casi il master saprà già quali stanze incontreranno sul loro percorso e che alla fine inevitabilmente si troveranno nella stanza centrale certo i giocatori potrebbero anche decidere a un certo punto di tornare indietro ma a quel punto la loro scelta sarebbe tra prendere l'altro corridoio e quindi optare per il percorso alternativo che comunque è già stato preparato oppure abbandonare il dungeon senza quello che gli serviva e quindi riorganizzarsi per tentare una nuova esplorazione in pratica ripetendo il dungeon dall'inizio nella pratica come ho detto qualunque possibile scelta significativa che i giocatori potranno fare potrà essere facilmente prevista già dalla fase di progettazione della quest senza dover neanche arrivare al tavolo e questo nei fatti rende la stesura della quest praticamente una procedura algoritmica probabilmente chi lavora nel campo dell'informatica ci sarà più familiare ma sono abbastanza sicuro che tutti voi prima o poi nella vita abbiate visto la rappresentazione grafica di un algoritmo cioè il diagramma di flusso se si confrontano le due strutture è facile accorgersi di come in realtà il loro funzionamento sia analogo in entrambi c'è un chiaro punto di partenza un chiaro punto di arrivo e in entrambi solo in determinati momenti è possibile scegliere il percorso che verrà navigato e che dipenderà proprio alle scelte fatte in quegli specifici punti soprattutto entrambe sono pensate per garantire che una volta iniziata la procedura questa venga portata a termine con successo che nel nostro caso vuol dire che i personaggi riusciranno a esplorare il dungeon e a trovare quello che la quest richiede loro di trovare in pratica possiamo dire che il dungeon è la rappresentazione fisica del diagramma di flusso dell'algoritmo che i giocatori dovranno navigare per portare a termine la loro quest e questo è banalmente il motivo per cui come struttura narrativa ma anche come struttura fisica all'interno del mondo di gioco il dungeon e quindi il diagramma di flusso che rappresenta sia una struttura così onnipresente in qualsiasi forma di gioco in qualsiasi forma di storia e nei fatti quella che permette al master di prevedere con più accuratezza ogni possibile svolta che la quest dovrà avere ed è quella che permette ai giocatori le maggiori possibilità di portare a termine con successo qualunque sia la quest che avevano intrapreso questo rende quindi il metodo del dungeon la forma di struttura narrativa sicuramente migliore e quindi l'unica realmente applicabile per scrivere quest per il gioco di ruolo no ovviamente no per quanto il metodo del dungeon abbia i suoi indiscussi vantaggi ne abbiamo visti un po ne parleremo poi nel dettaglio nei prossimi video di questa serie dovete sempre tener conto però che ha anche dei limiti molto specifici che lo rendono impossibile da utilizzare se non in casi estremamente specifici e la sua stessa natura algoritmica infatti a renderlo applicabile solo ed esclusivamente in quei casi in cui i giocatori non solo si trovino davanti ad avere scelte significative estremamente limitate ma anche che la natura di queste scelte sia coerente con la situazione di gioco e più in generale l'ambientazione in un dungeon queste scelte sono anche facilmente prevedibili da parte del master i giocatori potranno scegliere se andare a destra andare a sinistra o tornare indietro nessun'altra azione che potrebbero fare avrà veramente un impatto su quello che sarà il corso della storia e una volta deciso di imboccare un corridoio potranno o proseguirlo fino alla fine o ritornare indietro sui propri passi e imboccarne un altro per quanto tutto quello che succeda durante il tragitto nel corridoio possa essere incredibilmente epico il suo infatto sul percorso dei giocatori potrà avere solo uno di questi due esiti tutto questo però ha senso solo se esiste un motivo coerente all'interno della fiction cioè detto in poche parole se ha senso all'interno del mondo di gioco che le scelte dei personaggi giocanti siano così limitate se invece di essere un ambiente chiuso con una sola entrata e una sola uscita e con dei percorsi obbligati i giocatori si trovassero al contrario in uno spazio in cui possono vagare in cui sono disponibili altri percorsi diciamo che non stanno esplorando un dungeon ma stanno esplorando una regione sulla loro mappa esagoni per quanto il master potrebbe organizzare la mappa per favorire determinati percorsi i giocatori non avrebbero un reale motivo per limitarsi solo a quelli sì probabilmente sarebbe più facile seguire le strade tra una città e l'altra e utilizzare i ponti per guardare i fiumi ma potrebbero comunque decidere di fare il percorso più diretto attraversando le foreste scavalcando le montagne la loro vita potrebbe diventare sicuramente più complicata ma il master non avrebbe alcun motivo in fiction per impedirgli di farlo se questo è quello che vogliono e dopo tutto i giocatori giocano per vivere delle storie interessanti non per avere una vita comoda ed è questo il motivo per cui il dungeon per quanto possa essere onnipresente adattarsi a qualsiasi tipo di racconto stiate per portare al tavolo non potrà mai essere utilizzato come metodo fondamentale di organizzazione della quest proprio perché la sua natura è quella di poter sussistere solo quando le scelte sono limitate proprio come ad esempio all'interno è un ambiente chiuso in cui i giocatori non sono tanto interessati a giocare per scoprire qual è il percorso per proprio la gioia dell'avventura ma per recuperare un elemento di gioco che sia il tesoro o qualcos'altro e quindi avere un breve periodo di quest in cui le loro scelte sono limitate ma questo serve ad affrettare il conseguimento del loro obiettivo sia uno scambio perfettamente ragionevole da parte loro questo però non vuol dire che il metodo non merita attenzione anzi ne parleremo meglio nel prossimi video ma quando può essere applicato è un ottimo modo per facilitare da una parte molto il lavoro di preparazione del master ma anche per rendere molto più semplice per i giocatori comprendere l'ambiente e effettuare scelte che saranno poche ma saranno ognuna significativa invece di disperdere il loro tempo e le capacità cognitive che possono dedicare alla quest su un ambiente molto più ampio per questo primo video dei remake però ci fermiamo qui spero di aver migliorato il mio lavoro precedente ho anche voluto aggiungere delle cose che mi sono accorto che nei video originali avevo saltato adesso come sempre la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti se voi utilizzate il metodo del dungeon sono abbastanza sicuro quindi più che altro la domanda è quanto lo utilizzate o se magari siete effettivamente tra quei pochi master che avete deciso di non utilizzarlo mai come sempre scrivetemi anche eventuali domande dubbi perplessità o se avete delle specifiche richieste per altri video delle serie passate che secondo voi meritano di essere rifatti come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete il canale iscrivetevi e scacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le vedi link al server di disco da gruppo i telegram dove metto io gli annunci dei video manualmente e dove si raduna anche la community nel canale con cui spesso organizziamo dei progetti collaborativi per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video